Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube per la rubrica di Scopermessina Sisi Li Racconta. Prima di introdurvi il mio argomento della giornata, vi invito a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui video che pubblicheremo quotidianamente e inoltre a seguirci sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram in particolare. Oggi nel mio video voglio raccontare di un personaggio molto importante per la cultura di Messina, per la cultura della Sicilia in generale nel 600, ovvero Caravaggio. Voglio farlo cimentandomi per la prima volta in un tour virtuale all'interno del Museo Regione di Messina, visitando due capolavori del Caravaggio custoditi nella mia città, ovvero l'adorazione dei pastori e la resurrezione di Lazzaro. Buona visione! Molto spesso la figura di Michelangelo Merisi da Caravaggio è ricordata come quella di un artista irrequieto. In effetti la sua biografia è punteggiata di episodi più o meno rogamboleschi, che inevitabilmente hanno influenzato la sua fortunata produzione artistica. E' infatti a causa dei ripetuti guai con la giustizia che Caravaggio è attestato in diverse città italiane. Secondo alcuni biografi del Caravaggio, sembrerebbe che a causa di un omicidio, Caravaggio lasciò Milano, dove dal 1584 al 1588 aveva lavorato come apprendista presso la bottega di Simone Peterzano, per stabilirsi per un breve periodo a Venezia. Dal 1594 Caravaggio è documentato a Roma, ed è qui che inizia la sua carriera artistica, grazie a numerose commissioni pubbliche e private, favorite soprattutto dall'amicizia con il Cardinal del Monte. La fama dell'artista cominciava a prendere il volo all'interno degli ambienti aristocratici, tra marchesi e notabili del tempo, e le commissioni diventavano sempre più prestigiose e complesse. L'apprezzamento per Caravaggio scaturisce dalla sua rivoluzionaria adesione alla realtà, attraverso l'uso dei contrasti di luci ed ombre. Molto spesso, infatti, le figure sono rappresentate su uno sfondo scuro, tanto da non cogliere a prima vista i dettagli del secondo piano, e illuminate da una fonte di luce interna al dipinto. Questa metodologia, chiamata caravaggismo o realismo caravaggesco, influenzerà la pittura barocca europea del Seicento, soprattutto nell'area mediterranea. Tra le novità introdotte dal Caravaggio, che spesso non aggradavano i committenti, vi era l'impiego di modelli indecenti, che rendevano le opere scandalose e quindi rifiutate. E questo è il caso della prostituta trovata morta nel Tevere, scelta per rappresentare la Madonna nel dipinto Morte della Vergine, commissionata dai carmelitani scalzi per la chiesa di Santa Maria della Scala. L'opera, rifiutata in quanto ritenuta scandalosa, viene notata da Rubens, che la fece acquistare dal duca Vincenzo I Gonzaga. Rivenduta e riacquistata in giro per l'Europa, oggi si trova al Museo del Louvre. Risse, violenze, processi e arresti segnarono gli anni romani di Caravaggio, dal 1600 al 1606. Il 28 maggio del 1606, a Campo Marzio, Caravaggio ferisce mortalmente Ranuccio Tomassoni da Terni, durante una lide probabilmente scaturita dalla gelosia verso una donna a cui entrambi erano interessati. Con l'accusa di omicidio fu condannato alla decapitazione, un tema che si ritroverà in molti suoi dipinti successivi. Per sfuggire alla condanna, Caravaggio fu costretto a lasciare Roma e a rifugiarsi a Napoli, con la raccomandazione della famiglia Colonna. Durante il periodo di permanenza a Napoli, Caravaggio eseguì in particolare tre opere, la cui tematica è la decapitazione. Giuditta, che decapita Oloferne, esposta a Napoli presso il palazzo Zevaios, probabilmente si tratta di una copia, eseguita da Louis Finson, un artista fiammingo. Davide, con la testa di Colia, conservato al Museo di Storia dell'Arte di Vienna. Salomè, con la testa del Battista, esposta presso la National Gallery di Londra. Dopo la permanenza a Napoli, ancora una volta sostenuto alla famiglia Colonna, Caravaggio parte per Malta, dove mira a diventare cavaliere dell'ordine di San Giovanni, in modo da ottenere l'immunità e far decadere la condanna a suo carico. La sua produzione artistica è ancora influenzata dal tema della decapitazione, tanto che nel 1608 dipinge la decollazione di San Giovanni Battista, conservato nella concattedrale di San Giovanni alla Valletta. Dopo aver ottenuto la carica di Cavaliere di Grazia all'interno dell'ordine di San Giovanni, riuscì nuovamente a mettersi nei guai e fu imprigionato a causa di un litigio con un altro cavaliere. Incredibilmente riuscì ad evadere dal carcere di Sant'Angelo e la Valletta e fuggì in Sicilia, rifugiandosi a Siracusa. Inizia così il suo soggiorno siciliano, che lo porterà oltre a Siracusa anche a Messina. A Siracusa verrà ospitato da un pittore contemporaneo Mario Minniti, suo amico, conosciuto durante la permanenza a Roma. Il soggiorno a Siracusa gli permette di realizzare uno dei suoi capolavori siciliani, ovvero la pala d'altare raffigurante il seppellimento di Santa Lucia, padrona della città di Siracusa, conservata presso la chiesa di Santa Lucia all'Abbatia in Piazza Duomo. Tra il 1608 e il 1609, Caravaggio è documentato a Messina. La sua fama artistica aveva attraversato quasi tutto il Mediterraneo e immediatamente ottenne due importantissime commissioni. Andiamo allora alla scoperta di questi due capolavori, visitando la Sala del Caravaggio all'interno del Museo Regionale di Messina. L'atmosfera è volutamente chiusa, l'ambiente in penombra. I punti luce illuminano strategicamente le due tele. A sinistra la resurrezione di Lazzaro, a destra l'adorazione dei pastori. L'opera era destinata alla cappella del mercante genovese Giovan Battista de Lazzari all'interno della chiesa dei padri crociferi, già chiesa dei santi Pietro e Paolo dei Pisani, edificata in epoca normanna tra il Duomo e il Porto, nei pressi del municipio di Messina. Da osservatori assistiamo all'episodio narrato dal Vangelo di Giovanni, così descritto da Pietro Bellori. E' nella chiesa dei ministri degli infermi, nella cappella dei signori Lazzari, la resurrezione di Lazzaro, il quale, sostentato fuori del sepolcro, apre le braccia alla voce di Cristo che lo chiama e stende verso di lui la mano. Piange Marta e si meraviglia Maddalena e vi è uno che si pone la mano al naso per ripararsi dal fetore del cadavero. Il modello per il Lazzaro, infatti, è proprio un cadavere, fatto riesumare appositamente dal Caravaggio per manifestare all'osservatore un realismo sconvolgente. Il corpo di Lazzaro, sostenuto da alcuni uomini e dalla sorella Marta, sembra imitare quello del Cristo sulla croce. Fuori dal sepolcro, Gesù gridò a gran voce «Lazzaro, vieni fuori!» E dunque Lazzaro, obbedendo al gesto di Cristo, viene investito dalla luce divina che immediatamente lo riporta in vita. L'adorazione dei pastori fu commissionata dal senato messinese come pala dell'altare maggiore della chiesa di Santa Maria della Concezione, retta dai padri cappuccini. Ancora una volta, l'osservatore è investito da un forte realismo. Così racconta Bellori «Passando Egli dopo a Messina, colorì ai cappuccini il quadro della natività, figuratavi la vergine col bambino, fuori la capanna, rotta e disfatta d'assi e di travi, e vi è San Giuseppe appoggiato al pastone, con alcuni pastori in adorazione». La scena è ambientata all'interno di una stalla malconcia, volutamente povera, perché Caravaggio vuole trasmettere l'importanza della ricchezza spirituale come unico e vero bene necessario. Nella penombra si distinguono sullo sfondo le figure del bue e l'asinello, mentre in basso a sinistra si nota una cesta con gli attrezzi del falegname. In primo piano la Madonna, stanca per il parto, che giace sdragliata a terra e regge in braccio il bambino. Ed è proprio Gesù bambino, il punto da cui parte la luce, che investe San Giuseppe e i pastori meravigliati. Grazie per avermi seguito e vi do appuntamento a domani per altri interessanti video. Ciao!